La bellezza della Val di Luce si sta scendendo verso il passo della Betone. Giornata meravigliosa. Abbiamo compiuto un no intervento in quanto c'era già un'altra ambulanza. Ora, Giusti Walter vi fa vedere un po' di panoramica della Val di Luce e poi spenge. Guardate che bellezza, che giornata meravigliosa. Sulle montagne dell'Appennino Pistoiese. Venite gente, venite. Noi penseremo a voi e vi tuteleremo in caso di cadute. Guardate che bellezza. Ora si va fino al resort. Vi faccio vedere quello e poi chiudo. È una meraviglia.